Trasportavano nell'auto 200 grammi di cocaina pura che sul mercato avrebbe fruttato circa 16.000 euro, ma scoperti sono finiti in carcere. Dovranno difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due pregiudicati di ruvo di Puglia di 43 e 41 anni, arrestati ieri mattina ad Andria dai carabinieri della compagnia. I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una Fiat Panda con a bordo due individui. Durante l'attesa, uno o due militari si è accorto che il passeggero dell'utilitaria si era chinato frettolosamente in avanti, dando l'impressione di aver occultato qualcosa. A quel punto, il carabiniere è intervenuto bloccandolo mentre tentava di nascondere un involucro in cielo fan contenente cocaina. Sotto il tappetino, infatti, il militare ha scovato un altro sacchetto contenente la stessa sostanza stupefacente, evidentemente nascosto poco prima. Scattato immediatamente l'arresto, la procura della Repubblica di Trani ha disposto il loro trasferimento nel carcere del capoluogo. La droga, invece, è stata sequestrata.